Buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento di Ludens con la sua rubrica, col suo format Emergenza Critica. So che stiamo registrando oggi di domenica ma è un momento perfetto per intercettare l'audience, il pubblico e disturbare culturalmente chi chiacchiera soltanto di videogiochi, just chatting, le charle sul videogioco, i buongiorno con e le ridondanze che poi rendono succubi culturalmente di un certo modo di parlare di videogioco e di degradare la cultura connessa al videogioco. Io sono Luigi Marrone e sono cofondatore del progetto indipendente Ludens e voglio ribadire i miei saluti che ho fatto prima di questa registrazione a chi è presente qui a seguire questa rubrica dal vivo, ripeto, di domenica mattina alle ore 10. Bawaus, Ayo Rose, Roby Maru, Mario che si è abbonato a livello 1. Grazie mille Mario per il tuo supporto. Videogioco e Sofà che ci sta ospitando, voglio che sia registrato questo e che possa essere visto perché è un canale che insomma vale la pena che sia seguito per le iniziative, molte volte anche cross mediali che porta avanti. Quindi Bawaus, quindi voglio ringraziare Logan che sicuramente online, tutti quelli che fondamentalmente sono qui questa mattina, questa mattina a seguire questa live. Di cosa voglio trattare oggi? Parliamo di qualcosa che proviene da un critico indipendente, da un autore che è già stato presente, che probabilmente ritornerà su questo format, Tevis Thompson. Rivado a dire chi è Tevis Thompson, sono preparato proprio una piccola introduzione su di lui. Lui è uno scrittore e critico indipendente, cresciuto nel Kentucky centrale e è andato al college a Chicago. Scrive di lui, ho frequentato la scuola di specializzazione New Mexico e Iowa, ha insegnato scrittura e letteratura nella provincia di Sichuan e attualmente vive in California con la moglie Ellen. Ha creato una graphic novel chiamata Second Quest con l'artista David Hellman che si è occupato tra l'altro del comparto grafico di un famoso gioco indipendente, Braid. Ha scritto dei saggi critici sui videogiochi, aveva delle rubriche, delle column su vari portali che si occupava di critica, si occupano di critica soprattutto indipendente e sta lavorando un romanzo, ha una rappresentazione anche teatrale e lui dice di se stesso che come scrittore sono profondamente interessato, vado a leggere, all'esperienza della vita quotidiana, dell'essere in un mondo. Sono più interessato a come le cose sono di quello che sono. Non è più sui social media, si è tolto da Twitter, tutto quello che erano diciamo i suoi canali su cui si poteva promuovere, ha semplicemente un sito online con un suo dominio ed è lì che è possibile reperire i suoi lavori. Davis Thompson, quindi parliamo di un critico indipendente, di uno scrittore soprattutto. Cosa interessante di Thompson, di cosa voglio trattare oggi? Fondamentalmente Davis Thompson ha tenuto un discorso ad un festival internazionale annuale di videogiochi indipendenti. Il festival si chiama Indiecade ed è un festival in cui gli sviluppatori di videogiochi vengono selezionati per proiettare e presentare i propri lavori ad una giuria. Da partire dal 2009 questo festival ha iniziato a presentare anche delle lezioni, dei panel, dei workshop e quant'altro. È diventata una delle principali attrazioni di interesse per gli sviluppatori indipendenti per chi lavora nel settore, oltre che gli interessati in genere. È un festival aperto comunque al pubblico. È stata prima parte dell'Electronic Entertainment Expo, le tre a Los Angeles, poi si è distaccato ed è diventato un evento indipendente che si è mosso prima da Washington e poi andato a finire a Los Angeles. Ora perché è interessante parlare di Davis Thompson? Buongiorno Old Frozzo, ben arrivato. È interessante parlare di Davis Thompson per questo motivo in particolare. Immaginate, immaginate questa cosa. C'è questo discorso che lui tiene in mezzo alla cultura del videogioco indie. Era il 2014. Parliamo di una cultura dello sviluppo dei giochi indipendenti dove ci sono giornalisti, ci sono sviluppatori, chi si occupa di critica di videogiochi, specializzata o meno. Parliamo di personalità che parlano della loro creatività, delle loro visioni, delle innovazioni tecnologiche e che si sentono praticamente unite riguardo a questa comune bandiera dell'essere indipendenti, dello sviluppo indipendente, della cultura del videogioco indipendente. Quindi l'aggregazione ideologica e culturale all'interno di questo ritrovo, questo raduno è forte e rende molto coesi gli uni con gli altri, in un certo senso. Ecco, Davis Thompson è chiamato in questo contesto a fare un discorso sulla critica villudica indipendente e in questa atmosfera lo fa all'interno proprio di questi sentimenti reciproci positivi. E cosa va a dire all'interno di questa atmosfera, Davis Thompson? Lo scopriamo fra 30 secondi dopo la sigla. Grazie a tutti. Eccoci qui. Siamo tornati all'interno della pagina di lettura di Ludens con questo nuovo appuntamento quindi di emergenza critica. La critica indipendente. Parliamo sempre di uno, un articolo pubblicato online e quindi è reperibile tranquillamente a questo indirizzo tra l'altro. Io mi sono semplicemente preoccupato di tradurre l'articolo e portarlo all'attenzione di questa rubrica. Niente di più fondamentalmente. Ho fatto uno screenshot della pagina. Qui è come si presenta l'articolo sul sito di Davis Thompson. L'articolo la critica indipendente è appunto un discorso che ha tenuto all'indie talk ma che è stato originariamente tenuto al museo Museum of the Moving Image il 14 febbraio 2014. Quindi lui ha tenuto questo talk prima il 14 febbraio 2014 a questo museo e poi questo lo stesso discorso l'ha tenuto il primo maggio sempre del 2014 all'indie cade. Vado direttamente a leggere. Io chiedo se vi va di commentare man mano che ci sarà la lettura secondo le impressioni che vorrete farvi, che siete riusciti a farvi rispetto a ciò che Davis Thompson scrive riguardo alla critica indipendente. Dunque lui comincia con Oggi voglio parlarvi in qualità di giocatore. Io non sviluppo giochi indie. Io gioco ai videogiochi, tutti i tipi di videogiochi e ne scrivo spesso in modo critico. So che molti di voi realizzano videogiochi o sperano di riuscirci un giorno ma essere giocatori è quello che tutti abbiamo in comune qui. Quindi adesso vi parlo da giocatore a giocatore. E' fantastico questo aspetto perché lui va a inquadrare subito nel senso quando stiamo trattando di un raduno di sviluppatori indie che trattano di videogiochi o vogliono presentarli o giornalisti e quant'altro. Noi sta parlando da giocatore a giocatore. Si presuma che tutti lì siano giocatori. E questo aspetto per me è fondamentale quando si parla a qualcuno di videogiochi capire che giocatore, che tipo di videogiocatore è, se è un videogiocatore perché il discorso ovviamente cambia totalmente dal punto di vista culturale. Cosa dice, cosa ha detto Thevis Thompson? Ha detto siamo tutti giocatori ma non ci piacciono gli stessi giochi, nemmeno gli stessi giochi indipendenti. Questo è naturale e va bene, però genera conflitto. Siamo qui a Indicate per celebrare, condividere e imparare, quindi cerchiamo di dimenticare queste differenze o almeno di minimizzarle e mantenerle private, tra amici. Ma temo, scrive Thompson, o meglio dice Thompson, di dover trascinare queste differenze, questo conflitto in pubblico. Dopotutto questo è un discorso sulla critica indipendente. Voglio, e penso, scusate, che essere un critico sia profondamente connesso all'essere un giocatore. Voglio discutere di come questo sia in effetti il fondamento stesso della critica. Le critiche riflessive provengono da giocatori riflessivi. Questo può sembrare ovvio, eppure sembra che abbiamo problemi a rimanere concentrati sui giocatori. Ci sentiamo più a nostro agio a chiedere consiglio a chi crea i videogiochi o al videogioco stesso in un isolamento solo teorico. In realtà ci rimettiamo agli esperti e cerchiamo costantemente un'autorità al di fuori di noi stessi. Perché è interessante? Io trovo molto interessante questo aspetto perché stiamo parlando di un talk chiamato la critica indipendente. Quindi presume un'indipendenza da parte del giocatore, da parte di chi scrive di videogiochi, sia su portali specializzati che in maniera indipendente. Ed è questo il problema per Davis Thompson, che noi rintracciamo comunque in maniera diffusa e generale, anche come progetto Ludens, lo vediamo, l'abbiamo criticato più volte, la mancanza di indipendenza critica da parte di chi vuole scrivere e esprimersi di videogiochi. Lui parla di isolamento solo teorico. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che teoricamente noi siamo soli quando ci esprimiamo sui videogiochi, ma in realtà ci sentiamo a nostro agio a chiedere consiglio a chi crea i videogiochi o al videogioco stesso. Chi crea i videogiochi vuol dire sia i contatti che si possono avere con l'industria, quindi chi crea i videogiochi, come in quel caso all'interno di IndieCade, parlare con chi li ha sviluppati certi videogiochi, sia quando si leggono ovviamente comunicati stampa, preschitto, quant'altro, che proviene da chi produce, da chi distribuisce magari questi videogiochi. O al videogioco stesso. Lui già qua anticipa una cosa interessante, cioè bisogna avere un rapporto indipendente, personale, individuale, col videogioco che si gioca, con l'opera che si va a valutare. Questo è garanzia di essere indipendenti, davvero, per Tavis Thompson. Ovviamente lui dice che all'interno di questo talk, dove ci sono tutti quanti che si vogliono bene, si abbracciano, sono sotto l'ombrello di questo essere indipendenti, lui vuole portare delle differenze, questo conflitto in pubblico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il videogiocatore è indipendente, vuol dire anche che si andrà a scontrare necessariamente con altri giocatori che, indipendenti anche loro, avranno modi e punti di vista differenti riguardo a un videogioco. E questo entra in contrasto con l'armonia che c'è all'interno di eventi simili, dove tutti quanti, ripeto, si vogliono bene, si abbracciano, sono sotto l'egida di una certa, diciamo, ideologia legata allo sviluppo e al gioco indipendente. Come continua Davis Thompson parlando del giocatore? Se menzioniamo il giocatore, tendiamo a mantenerlo salveficamente astratto, generico e maschile. I giocatori reali sono troppo diversificati, le loro esperienze troppo locali. Si sta dicendo che in realtà il giocatore reale, chi videogioca, voi, io, i figli, le persone che conosciamo, i genitori e quant'altro, sono troppo diversificati e le loro esperienze sono troppo locali, sono troppo legate ai loro contesti. Quindi è difficile parlare di tutti i videogiocatori. Quindi, quando si parla di videogiocatori, si pensa, e sfido chiunque di voi a non immaginare questo, a un giocatore medio, tipo, ideale, che riguarda un po' tutti. Che è una cosa assurda a pensarci. Come dire, che ne so, la letteratura, tutti quanti sono lettori allo stesso livello. Non è vero. Non esiste il lettore tipo. Esistono diversi tipi di lettori, secondo la propria cultura, e il rapporto che stabiliscono con la letteratura. Cosa dice Davis Thompson? Eppure i videogiochi richiedono che noi prestiamo assoluta attenzione ai giocatori. Non si tratta di qualcosa di facoltativo per il medium. I giocatori sono sempre presenti, interagiscono in modi specifici e significativi, e questo nella critica non può essere ignorato. Non ignorare il giocatore che è in noi, perché noi agiamo in modi specifici e significativi, secondo come è il nostro essere giocatori. Quindi una partita di uno di voi ad un videogioco X era diversa da una partita dal mio punto di vista, perché siamo giocatori differenti, perché agiamo in modo differente nell'ambito e nello spazio concesso dal gioco stesso. E questo nella critica non può essere ignorato. Cioè, cosa dice Thompson con questo? Questa è la mia interpretazione. Non si può ignorare il fatto che nella formulazione della critica c'è bisogno dell'esperienza personale del giocatore, e non un'esperienza spersonalizzata, dove si tiene di conto cosa potrebbe pensare il giocatore medio. Perché questo non ha nessun rapporto con la nostra intimità quali videogiocatori, fondamentalmente. Mi scrive Videogiochi e Sofa, Luca, si parla tanto di figure modello, giocatore modello, lettore modello, eccetera, però alla fine vince sempre quello empirico. Hai ragione. Le famose distinzioni, anche portate avanti da Bruno Faschini, riguardo ai videogiocatori, il videogiocatore empirico vince. Vince chi, vince, mi piace questo termine, chi fondamentalmente mette la propria esperienza al servizio di quella che è l'esperienza del videogioco. L'esperienza diretta. E quello che penso esattamente è, l'esperienza spersonalizzata non esiste proprio, scrive Videogiochi e Sofa. Esatto, esattamente. Cioè, esiste nel momento in cui la vogliamo rendere spersonalizzata, ma questo è un qualcosa che poi Thompson lo definirà come disonestà. Ma ci arriviamo. Continuo a leggere. Parlando di giocatori, voglio parlare anche della nostra retorica, del modo in cui parliamo delle nostre esperienze con i videogiochi. L'anno scorso ho criticato Bioshock Infinite. Ripeto, questo è un talk del 2014. L'ho criticato con forze ad alta voce. E prima ancora Zelda. Si riferiva a Zelda Skyward Sword. E molti altri lungo la strada, alcuno dei quali potreste aver amato. Sta parlando sempre a questo pubblico di gente, di sviluppatori, eh? La mia critica a Bioshock Infinite non è stata la prima nell'ultima, ma sembrava irritare molte persone. Ho criticato in base alla mia esperienza, cioè la mia verità in qualità di giocatore. Ma la mia verità ha offeso. La mia sincerità è stata presa per un iperbole. Quindi, per discutere di critica indie, devo parlare anche del discorso che ruota attorno ai videogiochi. Non solo del contenuto della nostra critica, ma del modo in cui la esprimiamo. Per Thompson è fondamentale il fatto di parlare del modo in cui vengono espressa la critica indie, perché c'è una forte resistenza da parte da chi la riceve, questa critica. Come se non si fosse abituati a ricevere un certo tipo di critica personale che proviene dall'intimità di chi scrive, dei critici e quindi anche dei videogiocatori, e in qualche modo quindi possa offendere lo status quo, un tipo di rapporto personale col videogioco espresso in tal modo. Videogioco che so fa continua. No, questo è interessante, lo voglio recuperare. Tra l'altro vedo che è trotto italiano, ma ovviamente preferi leggerlo in inglese. Sì, l'ho tradotto io in italiano. Se stai parlando fondamentalmente di questo articolo, Luca, o se ti stai riferendo a qualcos'altro, non so dirti, forse a lettore modello, a qualcos'altro. Se mi specifichi forse capisco meglio, però l'ho detto all'inizio. Questa è una mia traduzione dell'articolo originale. Ovviamente quando porteremo questo anche sul canale YouTube di Ludens ci sarà anche il link all'articolo per potervi fare un raffronto. E cosa fa Tavis Thompson? Nomina un paragrafo con andarci piano. Per prima cosa, un po' di spiegazione su cosa intendo con queste parole. Critica e indie, scrive. Per critica non intendo quella di tipo accademico, non quella critica che prende le distanze e che si basa su competenze, teorie o svariati riferimenti ad altre opere. La critica accademica non trova sufficienti le letture del singolo e le reazioni che andrò a discutere. L'università, l'accademia ama teorizzare la soggettività ma in realtà non la abbraccia. Questo è qualcosa che lui ha sentito e che io in parte sento anche di condividere. Cioè è chiaro che una concentrazione troppo accademica fatta di riferimenti, fatta di concettualità, fatta di studi, difficilmente possa poi spostarsi a privilegiare l'ambito soggettivo. Io come parlo di videogiochi personalmente, individualmente andrò a toccare vari aspetti che magari sono toccati anche dalla critica accademica in maniera molto più, se vogliamo, dilatata, studiata, concettualizzata. E quindi nella mia espressione individuale sicuramente un accademico vedrà riferimenti a qualcosa che è stato più, diciamo, ampliato e generalizzato a livello teorico. Quindi lui dice io non mi sto riferendo alla critica di questo tipo perché loro dicono di amare la soggettività, l'espressione individuale lì nell'accademia ma in realtà non la tengono di conto quando in realtà quello che vuole fare Tavis Thompson è parlare proprio del videogiocatore, del suo rapporto personale con il videogioco. Ecco, Luca dice pensavo fosse un libro. No, no, è proprio un articolo, un articolo di Tavis Thompson che ho tradotto. E come continua in questa distinzione, questa unione fra critica e indie, di Tavis Thompson, scrive né per critica intendo solo qualcosa come la recensione standard di un videogioco che allo stato attuale è una forma piuttosto degradata. Taglie subito la testa al toro. Le recensioni dei videogiochi attuali, quelle diciamo per il consumatore, sono una forma degradata di critica videoludica. Lui dice no, per critica mi riferisco all'espressione dell'esperienza di un giocatore con un videogioco e a un giudizio di quella esperienza. Ecco cosa lui dice per critica, cosa intende per critica, esperienza, espressione dell'esperienza di un giocatore con un videogioco e un giudizio di quella presenza. Riguardo a indie, invece, lui scrive beh, nonostante sia la parola che ci ha riuniti qui, indiecade, in questo raduno, sembra sempre qualcosa sul punto di perdere il suo significato. Ma il senso che attribuisco oggi alla parola è piuttosto semplice. Mi riferisco ad alcuni aggettivi specifici che spesso associamo ai giochi indie, indipendente, sperimentale e personale. Cosa vuol dire questo? Questo è proprio un corsivo che non so se c'era sul testo principale o l'ho aggiunto io, ma è vero che quando noi pensiamo ai giochi indipendenti abbiamo un'idea, diciamo, uno sviluppo quasi ideologico del nostro rapporto, di come sono stati sviluppati, di come li pensiamo, che rientrano proprio nei tag indipendente, sperimentale e personale. Il gioco che deve affrancarsi dal mainstream, il gioco che deve affrancarsi dal grande consumo. Ovviamente ci sono varie categorie che vanno a definire il dipendente, cioè anche il fattore economico, la produzione, il budget, l'editore, tante cose. Però quello che si crea nel giocatore, quando diciamo un giocatore è un videogioco indipendente, vuol dire fondamentalmente che è autonomo, sperimentale, personale, si spinge oltre rispetto a dei canoni controllati dal marketing, dai focus group o quant'altro, che possono caratterizzare le produzioni AAA solitamente. Cosa scrive Thompson? Dice, con entrambe le parole insieme, critica indipendente, mi riferisco principalmente a due cose. La prima è abbastanza diretta, la critica dei videogiochi indipendenti. È importante che questa provenga sia dall'interno della comunità indie che dall'esterno. Altrimenti, indie, indie e eventi simili servono semplicemente come raduni di vagoni di fan in cerchio. isolati e autoprotettivi. È quello spirito indie di cui ci piace tanto parlare minaccia di diventare semplicemente un'affettazione o uno stile. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che la critica dei videogiochi indipendenti deve provenire non soltanto dai giornalisti che sono lì, che parlano di videogiochi o dalla produzione autonoma, spontanea, di chi sviluppa videogiochi, di chi scrive di videogiochi ed è interessato all'indicade, ma deve provenire anche da fuori. La gente, gli scrittori, i critici devono interessarsi della critica dei videogiochi indipendenti perché altrimenti stanno lì fondamentalmente come vuol dire a lisciarsi le penne fra di loro e non si esce mai fuori da questo circolo, da questo spirito indie che dice minaccia di diventare un'affettazione o uno stile. Invece no, la cultura della critica dei videogiochi indipendenti deve contaminarsi, entrare in quella fuori dai propri circoli e viceversa. Se questa accezione è condivisa allora nella sua importanza si può parlare davvero di un salto culturale riguardo alla considerazione dei videogiochi indipendenti. Però cosa dice Thompson? Questo è interessante. Ma criticare i giochi indie all'interno della community è facile a dirsi e difficile a farsi. Molti trovano più sicuro andarci piano. Cioè, criticare i videogiochi quando si è una community in questo in questa vagoni di fan in cerchio me lo immagino lui che parla fondamentalmente diciamo tutti i sviluppatori giornalisti attorno no, è un discorso che sta tenendo un talk dice è facile ma è difficile anche a coltempo a farsi criticare i giochi indipendenti quando siamo qui quando c'è questo bias questo pregiudizio legato all'ottimismo dell'essere in questo contesto culturale adesso. cosa dice Mario completamente d'accordo con Tevis rischia di diventare un grande compartimento altrimenti sì Thompson punta all'universalismo culturale del videogioco è vero ha ragione Tevis siamo sempre a creare gruppi di pensiero unico dice Roberto sì che hanno effettivamente rovinato moltissimo anche della percezione culturale del videogioco all'esterno ma dei critici stessi gruppi chiusi pensiero unico eccetera pensa che ho letto alcune analisi all'interno dei game studies in cui dei critici di videogiochi hanno abbandonato il fare critica in maniera dipendente anche la scrittura di certi libri in modi di porsi proprio perché questo pensiero unico l'internet questa chiusura il gamer gate proprio nel 2014 quindi l'anno in cui è uscito questo discorso ha rovinato la percezione che si poteva avere nel videogioco quindi a livello culturale c'è stato un risentimento dell'utilizzo che si è fatto di internet di queste camere eco-chamber di risonanza chiuse dunque quindi cosa dice è difficile parlare di videogiochi indipendenti quando si è circondati da questa cultura indie e cosa dice Thomson scrive perché questo in parte a causa del nostro amore speranza che nutriamo per i giochi indie in parte perché in eventi come questo nessuno vuole essere il lamentoso guastafeste e in parte perché gli sviluppatori indipendenti gli aspiranti critici spesso si conoscono ed è molto difficile criticare le persone che conosci per ciò che mi riguarda cerco di essere gentile di persona e spietato nella scrittura ma questo mi risulterebbe molto difficile se conoscessi più persone da questo punto di vista venire quindi chiede piuttosto pericoloso per me come critico parliamo di un concetto fondamentale che noi su Ludens anche riportiamo io ripeto non abbracciamo tutti tutto completamente il pensiero degli autori che portiamo qui però ci sono alcune cose che riguardano Ludens in particolare come progetto culturale Thomson parla di critica socializzata guarda mi metto in in primo piano per dire questa cosa perché è fondamentale la critica socializzata è il male se vogliamo della critica videoludica in generale specializzato indipendente il fatto che ci si sente socializzati all'interno di un club all'interno di una società in cui si fa attenzione a quello che si dice a come lo si dice e a quello che gli altri hanno detto per Thomson è fondamentale lui dice per me è pericoloso fare questo tipo di interventi qui perché mi mette in contatto sociale con delle persone che sviluppano videogiochi altri giornalisti e quant'altro per lo quale poi io sento di dover rendere di conto quando scrivo in maniera indipendente quindi lui è molto lucido nel dover inquadrare nel voler inquadrare le dinamiche che stanno avvenendo in quel in quel momento dal punto di vista proprio socializzato questo questo che sia chiaro quindi critica socializzata quando lo ripeto sempre intendo proprio la concezione di Thomson che sia che penso sia possibile sentire quando leggiamo l'esercizio della produzione critica nei nostri portali anche italiani quelli specializzati in una maggior parte quando trattano di videogiochi ora torno in modalità lettura lui dice parla del secondo significato di critica indi e dice secondo significato di critica indi è qualcosa di più semplice di cui parlare e fornisce forse un modo più specifico per intendere il primo mi riferisco a una sorta di critica che ha quelle qualità che generalmente associamo ai videogiochi indie che nasce dallo stesso spirito indie una critica che è indipendente sperimentale e personale pensata per essere applicata a tutti i giochi indipendenti e non quindi cosa fa qui Davis Thompson dice ok parliamo di critica di videogiochi ma la critica indipendente il modo di porsi nei confronti della critica deve essere come sul dirsi deve essere dilatato ed estendersi a qualsiasi tipo di videogiochi qualsiasi tipo di videogiochi che questi siano indipendenti grandi o piccoli eccetera non ha importanza essere indipendenti vuol dire essere sperimentali autonomi essere personali nel giudizio delle proprie analisi critiche della propria esperienza trasmissione della dispensa diretta con un videogioco allora è spaventato da possibili commenti generici no Roberto credo che tu mi scrivi questo credo che sia spaventato dal fatto che se conosci troppo da vicino le persone che hanno prodotto un certo videogioco te le fai amiche o stabilisci dei rapporti interpersonali è difficile poi scriverne è difficile essere distaccati nell'esercizio della propria critica e questo accade molte volte quando si deve parlare magari di un amico pensaci un attimo ed è difficile magari guardarlo con obiettività quando un rapporto è molto vicino quando si scambia qualcosa che va oltre l'interesse del in questo caso critico per il videogioco e allora quindi comincia a distinguere questi tag e li spiega indipendente sperimentale e personale indipendente conosciamo già alcune delle cose che impediscono ai critici di essere indipendenti nei loro giudizi sappiamo che gli indie sono troppo legati gli uni agli altri videogiochi indipendenti gente che si conosce sappiamo che i giornalisti di videogiochi sono troppo legati all'industria di cui trattano ma ciò che influenza ogni critico anche quelli senza affiliazioni indipendenti o specializzate è la percezione dei giocatori in generale a volte questo si riferisce alla nostra consapevolezza dell'ambiente sviluppiamo un senso per le norme e le opinioni degli altri attraverso il chiacchiericcio incessante dei social e di altre forme di discorso online è così che ad esempio la scala di recensione dei videogiochi con voti da 7 a 10 viene interiorizzata e conserva il suo significato per noi nel tempo cosa dice qui fondamentalmente sta dicendo che è facile che un critico indipendente un critico in generale sia consapevole dell'ambiente si nutre del social si nutre di come parlano gli altri del videogioco fa entrare nell'esercizio della sua critica il modo in cui gli altri discorrono del videogioco ne parlano addirittura anche le norme e le opinioni dice Thompson degli altri cioè il chiacchiericcio incessante dei social si unisce a quelle che sono le cose normate tipo i voti da 7 a 10 per certi tipi di videogiochi li interiorizziamo e facciamo in modo che entrano a far parte dell'esercizio della nostra critica e questo è sbagliato questo è un errore e questa è la socializzazione questo che non rende indipendenti perché siamo dipendenti da ovviamente chi come noi giocatore parla delle proprie esperienze con i videogiochi critica entra all'interno di certi modi di intendere il videogioco e li norma li fa diventare normati e noi viviamo come critici se non siamo indipendenti su queste norme fondamentalmente ora cosa dice questo è interessante Thompson perché va oltre i social ecco perché lui magari forse possiamo inquadrare il fatto del perché si è cancellato dai social lui dice eppure spesso ci sbagliamo su ciò che la gente pensa realmente è difficile vedere la reale diversità delle esperienze di gioco perché a dominare sono le voci più rumorose e affermate ne bastano poche prima che il nostro cervello inizi a raccogliere opinioni e colmare le lacune immaginando il consenso di quelle meno vocali io ho messo che hanno meno visibilità questa è la paura di Thompson dice le esperienze che ognuno ha con un videogioco sono diverse quindi quello che alla fine domina anche perché l'uomo come dire si adagia sulle espressioni degli altri fa ingloba metabolizza in sé quelle che sono più rumorose e affermate la critica specializzata ad esempio chi ha più voce youtuber più seguiti ed dice ne bastano poche poche di queste voci e il nostro cervello raccoglie queste opinioni colma le lacune ciò che sente mancare da un altro tipo di critica e immagina il consenso di quelle vocali fondamentalmente immagina che quelle che non si sono espresse le voci che non sono riuscite a emergere abbiano il consenso nel senso del suo consenso nel senso di così anche loro sono come gli altri che hanno più voce anche loro parlerebbero come si esprimono magari nei portali specializzati chi ha curato le critiche nei portali specializzati quindi diciamo che non si fa un lavoro di ricerca perché ci si adagia su degli aspetti molto se vogliamo di comodo riguardo a ciò che ci propina la rete che come sappiamo la rete anche a livello di algoritmo è piuttosto una realtà socializzata nel senso che fa venire fuori ciò che viene più condiviso ciò che viene più visualizzato quindi una realtà dove molti si riferiscono e quindi molti vanno a nutrirsi quando fanno le proprie ricerche e non riescono quindi a essere indipendenti bevo un attimo Roberto scrive secondo me lista la bravura riuscire a mettere da parte i sentimenti per avere un'opinione meno influenzata no sì se vuoi la mia Roberto io penso che la bravura sia riuscire più che altro che mettere da parte i sentimenti usare i sentimenti in maniera meno influenzata cioè nel senso farli parlare questi sentimenti senza sentire l'espressione degli altri e questo è più difficile perché vuol dire fondamentalmente essere come suol dirsi davvero emancipati ed è una cosa che è difficile fare anche in questo momento voi che siete fondamentalmente state seguendo questa mia introduzione questa mia lettura e commento siete o indirizzati verso il mio modo di vedere io spero sempre che ognuno poi sviluppi i propri strumenti critici però immaginiamoci questo a dei livelli estesi a che ne so al 500% e abbiamo un'idea di quello che fondamentalmente è l'influenza che può avere certi tipi certi tipi di modi di fare critica quando ampliati quando diffusi globalmente e quindi Thompson parla quindi di indipendenza e dice tutte queste voci nella nostra testa continuo a leggere tutti questi fantasmi possono inconsapevolmente indurre un critico all'autocensura o quantomeno esprimersi con una specie di farinosa retorica otteniamo un flusso costante di emo cioè a mio modesto parere e di nervosismi per ogni frase che voglia spingersi a dichiarare ad affermare qualcosa vediamo scrittori così timorosi della percezione dell'elitarismo o alla possibilità dell'offesa che finiscono con l'esitare riguardo al giudicare qualsiasi cosa la paura di dire se dico questo vengo considerato un elite uno snob o la possibilità che possa offendere qualcuno e quindi fondamentalmente si va avanti con una critica che è retorica qualcosa che sappia non calpestare i piedi o rienti nello status quo lui parla proprio di questo timore di chi esprime la propria critica il proprio giudizio personale e soggettivo che soggettivo e personale non diventa più nel momento in cui uno ha paura di esprimerlo e si autocensura come dice Thompson ma come continua Thompson dice ma non c'è niente di arrogante nel valutare le proprie esperienze e mettere quei giudizi là fuori per gli altri anche se lo si fa con vemenza perché i sentimenti sono vementi ecco qua i famosi sentimenti Roberto di cui dicevi tu trovo molto più arroganti coloro che rifiutano il giudizio e fingono imparzialità desiderando rimanere al di sopra della mischia come se le loro dichiarazioni una volta finalmente pronunciate potessero scuotere il nostro piccolo mondo cioè persone davvero che pensano che se si esprimono davvero liberamente possano scioccare gli altri e quindi è meglio non farlo quando in realtà lui vuole Thompson che la gente si esprima su quello che davvero pensa su quello che davvero piace o non piace rispetto a un videogioco lui lo trova arrogante coloro che rifiutano il giudizio e fingono questa imparzialità perché è un modo per rimanere sopra la mischia cioè di non immischiarsi non sporcarsi le mani con il proprio giudizio infatti lui dice prima di giocare a Bioshock Infinite il mio gioco meno preferito degli ultimi anni era il tanto amato Limbo l'avete Play Dead lo conoscete probabilmente lo conoscete questo gioco indipendente chiamato Limbo questo fortemente espressionista bidimensionale un puzzle solving puzzle platformer eccetera lui dice criticandolo volevo anche mettere in discussione le nostre supposizioni su ciò che rende buono un titolo indipendente riguarda l'atmosfera e lo stile vale davvero la pena celebrare un mucchio di semplici puzzle che presentano una singola soluzione è importante che i movimenti di base del gioco di volta in volta restituiscano una sensazione così brutta ma Limbo parla davvero di qualcosa queste sono le sue critiche che lui ha messo diciamo sul tavolo quando ha criticato questa esperienza e dice per rispondere a queste domande un critico indipendente non può rivolgersi a un'autorità esterna deve affermare l'autorità di se stesso della propria esperienza di gioco e per fare questo deve ascoltare se stesso la realtà della propria esperienza e ascoltarsi attentamente soprattutto quando tutto quel rumore ambientale minaccia di travolgere l'umore ambientale cioè il chiacchiericcio i social la cultura in cui lui è immerso socializzata attorno lui deve ascoltare se stesso mentre questa marea lo sta in qualche modo inglobando affinché lui possa pensare come la marea stessa e no con la sua testa e scrive Thompson questo richiede coraggio a volte anche un'imprudenza anche imprudenza una certa dose di isolamento autoimposto non puoi eliminare del tutto la tua consapevolezza ambientale nemmeno se volessi farlo ma un critico ha bisogno di liberarsene regolarmente in modo da abitare e preservare le proprie esperienze di videogiocatore e ha bisogno dei mezzi per respingere la marea quando le sue esperienze divergono dal consenso apparente offrendo una prospettiva che può risultare sorprendente ma convincente può alterare leggermente la consapevolezza ambientale degli altri e questo disaccordo a sua volta può incoraggiare l'indipendenza negli altri mi sembra abbastanza chiaro no? per promuovere l'indipendenza dobbiamo favorire l'indipendenza altrui per promuovere l'indipendenza bisogna in qualche modo incoraggiare l'indipendenza degli altri e si può farlo in un solo modo soltanto se si è indipendenti se si è preso del tempo per ragionare con la propria testa escludendo il resto del mondo lasciandosi influenzare e in quel modo fondamentalmente usciamo dal consenso apparente degli altri e offriamo una prospettiva che può risultare sorprendente però convincente questo è interessante lui parla ovviamente come scrittore anche lo scrittore adesso a prescindere dai videogiochi deve isolarsi se vuole scrivere deve prendersi il tempo noi per scrivere su Ludens la rivista ci prendiamo il nostro tempo perché gli articoli non sono un'opera diciamo che viene al momento per dire la buttiamo lì e via è un'opera diciamo di isolamento da tutto quello che è un discorso culturale sul videogioco che poi è l'espressione di ciò in cui crediamo dei nostri valori lui parla proprio di questo di questa esigenza Davis Thompson poi parla di sperimentale quindi le tre i tre tag ripetiamoli allora erano indipendente sperimentale e personale allora sperimentale lui scrive i critici indipendenti devono anche essere disposti a sperimentare sia all'interno dei giochi che giocano sia formalmente nella loro stessa scrittura nei videogiochi questo può significare quindi sperimentare nella propria scrittura quante quante volte leggiamo di critici la scrittura sembra la stessa leggere di qualcuno sembra come leggere di qualcun altro prima anche della critica specializzata quindi non c'è una diversità nello stile o quant'altro lui scrive nei videogiochi questo può significare giocare deliberatamente in modo sbagliato il pacifista di Skyrim Skyrim che livella senza uccidere direttamente nessuno il giocatore di Minecraft che cammina verso la fine del mondo persino lo speedrunner questi sono gli atti di aspiranti critici indipendenti che pressano contro le regole dei mondi di gioco e mettono alla prova i limiti della loro agenza al loro interno e come spiega questo giocare sperimentale da parte di da parte sua dice l'anno scorso ero vicino alla fine del videogioco Fire Emblem Awakening quando un singolo errore ha portato alla morte della moglie e del figlio del mio personaggio principale dopo che il gioco non ha affatto riconosciuto o dato importanza a questa perdita ho deciso che questo padre e marito in lutto guidasse i suoi compagni in prima linea al massacro ogni singolo personaggio è stato annientato non ho ravviato la partita lui è giocato in un modo diverso da come ha giocato allora per essere coerente ecco questo per me esprime un grande rispetto per i videogiochi prenderli secondo quello che ti stanno dando e agire di conseguenza in modo da da come dire da essere coerenti con il gioco stesso quindi prenderli sul serio in qualche modo non ho ricaricato la partita per dire ok è stato un errore il gioco non è riconosciuto che è stato un mio errore rifaccio da capo no lui il salvataggio non l'ha caricato ha detto voglio arrivare fino alla fine perché questa è l'esperienza che mi si è presentata e questo è un modo di giocare sperimentale che tiene in alta considerazione il videogioco come linguaggio sfido chiunque di noi qualsiasi videogiocatore avrebbe ricaricato la posizione per un errore commesso che ti fa morire dei personaggi principali eppure lui ha detto no voglio giocarlo fino alla fine cosa più importante cosa scrive Thompson questa è stata la mia partita con Fire Emblem ho seguito la mia esperienza e ho trovato un finale che mi sembrava appropriato ed è di questo che ho scritto lui ha scritto di questa esperienza per come è nata e per come si è sviluppato in modo coerente giocare controcorrente contro quelle che sono le intenzioni e il volere dei designers non squalifica un critico no lo definisce in qualità di videogiocatore gli serve come base per la sua critica essere sperimentali vuol dire andare contro anche il videogioco che andare contro anche molto tutte le proprie passioni la coerenza interna sperimentare per lui è questo è un discorso molto interessante che se fosse applicato in maniera diffusa vedrebbe secondo me delle critiche diciamo culturalmente molto diverse da quelle che conosciamo cosa dice Thompson dice non esiste ovviamente una formula per produrre una buona critica per questo i critici devono essere disposti a correre dei rischi anche nella loro scrittura la maggior parte dei discorsi sviluppati sui videogiochi seguono la stessa logica gretta e dalle vedute ristrette dei videogiochi stessi si sforzano di mantenere stabile e sicuro l'ambiente retorico e tutto ciò che contiene conosciuto e controllato cioè questo è interessante anche i videogiochi molte volte si sforzano sono retorici cioè hanno cercano di mantenere stabile come deve sentirsi il giocatore quello che deve fare tutto anche a livello di sviluppo è controllato è conosciuto e questo si ripercuote sulla critica cioè anche la critica dice i discorsi sviluppati sui videogiochi seguono la stessa logica cioè vedute ristrette come i videogiochi stessi e quindi lui dice è per questo che i critici devono essere disposti a correre dei rischi nella loro scrittura perché così ampliano il discorso culturale sul videogioco lui dice la critica dovrebbe essere pericolosa dovrebbe capovolgere dovrebbe essere destabilizzante ci sono così tante forme che la critica videodudica deve ancora esplorare o inventare ben oltre la recensione per il consumatore e provare nuove forme nuovi toni persino nuove posizioni retoriche è cruciale per il critico indipendente anche se questi esperimenti a volte falliscono provare sperimentare sperimentare vuol dire ovviamente per definizione non conoscere il risultato di un esperimento quindi può essere anche un fallimento ma è qui secondo Thompson che si muove la critica che si può spingere oltre provare altri modi di scrivere i videogiochi provare altre forme espressive giocare in modo diverso coerente o incoerente qualsiasi cosa si voglia ma fornire un punto di vista indipendente che sia sperimentale e lui cosa dice dice penso che di base anche i critici più articolati fatichino ancora a descrivere il loro incontro con i videogiochi giocare un videogioco genera esperienze così strane e fuggitive che un critico indipendente deve stranirsi al fine di catturare e valutare quelle esperienze per il suo pubblico ecco c'è una cosa fondamentale mi metto in primo piano per dirla perché la trovo centrale parlo anche come designer curatore di corsi di scrittura creativa quindi parlo in modo personale è fondamentale che ci sia una cultura della scrittura quando si vuole fare critica di videogiochi non si tratta solo di saper scrivere in maniera corretta in italiano nel nostro caso si tratta secondo me di sviluppare un rapporto che sia più intimo diretto sperimentale personale autonomo indipendente con la scrittura stessa i videogiochi la critica videoludica passa attraverso la scrittura ora che sia registrata tramite video che sia presentata online tramite un testo scritto qualsiasi voglia qualsiasi sia diciamo il modo in cui si vuole esprimersi sul videogioco la cura per la scrittura è fondamentale e lui parla ovviamente da critico e da scrittore lui sta scrivendo un romanzo lui ha diciamo ha scritto anche per questo second quest per un fumetto ha scritto anche una sceneggiatura insomma sa cosa significa scrivere ed è questo che lui sente mancare quindi si rivolge anche in qualità di scrittore a chi vuole scrivere videogiochi per me questo è fondamentale se si vuole trovare un critico una critica che provenga da una reale indipendenza perché il rapporto con la scrittura è fondamentalmente doloroso scrivere è doloroso mettere la propria intimità i propri sentimenti come diceva Roberto è doloroso e quindi parlare in maniera intima del videogioco ovviamente in una realtà così socializzata va a incontrare un contrasto forte che può uccidere la cultura della scrittura la cultura critica del parlare il discorrere di videogiochi questo secondo me vuole dire Thompson all'interno del tag sperimentale l'altro tag è personale i videogiochi sono sempre personali scrive è nella natura del medium il modo in cui la nostra interattività ci coinvolge ci colpisce ci provoca ci rende responsabili di ciò che accade sullo schermo è uno dei motivi per cui i videogiochi possono essere difficili da criticare sappiamo che ciò che è personale per noi deve essere personale anche per gli altri io che ho messo l'incontro con l'altro quando ci si esprime in modo personale fa sentire scoperti è questo penso che non ci sia bisogno di parafrasare abbiamo paura di aprirci quando parliamo di critica perché vuol dire perché riconosciamo che il rapporto intimo con qualcosa può essere diverso dal rapporto intimo che qualcun altro ha con quella cosa anche se l'altro non lo esprime quindi significa sentirsi scoperti nel momento in cui ci si mette in gioco il momento in cui ci si analizza in maniera personale riguardo in questo caso un videogioco lui scrive pure spesso ci si aspetta che i critici mettono da parte i propri sentimenti e affrontano i videogiochi con qualcosa di simile all'obiettività sentiamo dire parlate solo del gioco non vogliamo sentire le vostre esperienze personali il richiamo all'obiettività a mille volti diversi ma la radice è sempre la stessa il desiderio di eliminare il personale dal gioco di cancellare l'umano cancellare la personalità cancellare l'umano cancellare le esperienze che qualcuno può avere con un determinato tipo di opera e qua qui è fondamentale scrive il personale è così prontamente liquidato quale fonte del gusto del pregiudizio di qualcosa di marginale quando in realtà è il nucleo essenziale e instabile dell'esperienza di un videogioco fornisce al critico indipendente le sue intuizioni sul videogioco e rivela sia i valori del giocatore che quelli del videogioco le intuizioni sul videogioco provengono dal nostro interfacciarvisi è così che funziona il medio un videoludico questo non significa che i critici dovrebbero semplicemente parlare di se stessi e ignorare il gioco significa che la critica videoludica sorge all'incrocio tra videogioco e videogiocatore invece di perdere tempo a speculare su qualche mitico giocatore medio un critico dovrebbe mettere in primo piano interrogare il giocatore reale che egli stesso è e lui continua a volte l'opinione onesta di un critico il suo giudizio sincero suoneranno foglie agli altri quando ho detto che pensavo che Bioshock Infinity non fosse solo il peggior gioco dell'anno ma il peggior gioco di questa generazione io intendevo sul serio è letteralmente il peggiore che abbia mai giocato secondo i miei valori certo ho fatto delle scelte retoriche su come l'ho espresso ma è importante per me che le mie provocazioni siano sempre vere che io ci creda davvero parla quindi dell'importanza di affrontare anche il dissenso usando magari anche una retorica quando ci si esprime però credendo in quello che si fa in quello che si scrive non perché si è protetti da come molti parlano di un certo videogioco in un certo caso e quindi ci si accoda aggiungendo una voce nell'oceano che non cambia nulla fondamentalmente non dice nulla del giocatore invece lui parla Thompson di interrogare il giocatore reale che è gli stesso è metterlo in primo piano non parlare del giocatore mitico medio compriamo cyberpunk 2077 e ci consideriamo giocatori come gli altri alla fine tutti stanno giocando lo stesso gioco per cui tutti dovremmo avere lo stesso tipo di reazioni critiche non è così non è così questo è quello che dice videogioco così posso parlare di me stesso e parlare del videogioco in fondo quando parla di interfacciarvi si parla proprio del medium quale medium più del videogioco è un medium di interazione interfacciarsi col gioco vuol dire parteciparvi in maniera diversa rispetto al guardare passivamente un film ad esempio quindi ciò che vuol dire vuol dire che stabiliamo un rapporto più intimo con gli specifici del medium rispetto a come faremmo su altri tipi di opere che possono interessarci o meno in maniera diretta questo è un altro discorso che ne so se è sensibile più a un Picasso che a un Miró ci può stare ma parliamo proprio di come fruiamo del videogioco inevitabilmente dobbiamo stabilirci un rapporto diretto ed è questo rapporto che si scrive fra videogioco e videogiocatore che per Thompson è fecondo è qui che deve iscriversi la critica leggo un attimo di di commenti Mario scrive si arriva al cortocircuito della stampa di settore che non può essere critica se è un pubblico in sostanza vuole sapere come e quanto funziona un gioco sì Mario perché effettivamente è così che è stata abituata consiglio per gli acquisti consigli per il consumatore ed è effettivamente quello che dice Thompson una forma di critica degradante cioè non andare a leggere se vuoi trovare qualcosa davvero sul gioco che non sia il consiglio all'acquisto il consiglio all'acquisto puoi maturarlo diciamo diversamente oppure se vuoi leggere quello perché vuoi comprarlo meno basarti su quello ma se vuoi una critica rivolgiti altrove fondamentalmente dice Thompson e Aioro scrive adoro il paradosso che viviamo oggi la richiesta di oggettività da parte del pubblico poi una delle cose che ha fatto più tendenza pop è stata la soggettivissima review di Sterling di Deadly Premonition e molte volte sì fenomeni che fondamentalmente sono soggettivi poi diventano popolari ecco la cosa assurda come se fossero delle comete che poi diventano pubbliche hanno una loro risonanza diventano popolari in realtà quello dovrebbe essere Sterling fa un lavoro lui non si definisce critico il non critico di videogiochi si riferisce lui perché vuole prendere le distanze da l'essere critico oggi come viene comunemente considerato e diventa addirittura popolare proprio perché sembra quasi fare tendenza ma dovrebbe essere così una critica lui è personale io lo abbraccio Sterling con tutte le sue contraddizioni però è personale non teme l'esercizio della propria passione passione critica ero spezzato al stesso modo Deadly Premonition che sui Genova ha preso tre tipo sì sì esattamente parliamo di questo di questo tipo di fenomeno che si crea poi quando qualcuno si esprime davvero riguarda un videogioco dunque cosa come continua ecco lui dice Thompson questo è bello affrontare la realtà dell'esperienza di un altro dovrebbe essere minaccioso disarmante forse esasperante la verità di una persona può sembrare folle per qualcun altro ma può anche sfidare le norme nascoste la saggezza acquisita i valori che sono in gioco questo confronto è il punto principale della critica dobbiamo confrontarci con la realtà degli altri per tale motivo un critico deve impegnarsi riguardo le sue esperienze personali molto personali con i videogiochi un critico videoludico è sempre un giocatore particolare in un luogo particolare in un momento particolare non può evitare la propria realtà è sempre una soggettività particolare e deve ammetterla riconoscerla confessarla cioè questo non sta dicendo che io ho capito cosa vuole dire Thompson presumo eh dice non è che perché abbiamo tutti quanti un televisore a 40 pollici 50 pollici 4k giochiamo lo stesso gioco sulla stessa console tutte le critiche quindi devono essere uguali no lui dice che il giocatore essere diverso perché è un giocatore particolare che è in un luogo particolare in un momento particolare quindi parla di condizioni psicologiche del giocatore valori personali parla di rapporto con l'ambiente quindi sociale parla di abitudini al consumo parla di consapevolezza critica parla di tanti aspetti che definiscono un giocatore noi ci piazziamo sempre su degli aspetti esterni qua voglio mettermi sempre in primo piano ci piacciamo ci amiamo piazzarci fondamentalmente nella visione degli altri culturale riguardo a ciò che presentano esternamente la sedia da gaming ce l'ho pure io ovviamente mi è stata regalata però non ho trovato uno che l'ha voluto a togliere un amico ma questo non mi scusa sono come tutti gli altri gamer o chi parla diciamo di videogiochi presentandosi in questo modo il gioco che viene presentato live gli aspetti esteriori no avere la console di ultima generazione mostrare memorabilia dietro le action figure tutto ciò che connota la cultura dell'essere gamer lui dice ma non sia non è quello che dobbiamo guardare dobbiamo guardare chi sta giocando cosa sta giocando cosa o quant'altro dobbiamo vedere il giocatore che si esprime in quel momento nella sua condizione psicologica nel suo esercizio culturale perché è un giocatore personale che ha un rapporto intimo con se stesso quindi è diverso il modo in cui parlerà tratterà del videogioco rispetto ad un altro che è quello che interessa analizzare come si tratta il videogioco l'aspetto critico mi scrive Mario no Robimaru ci tenevo a specificare che quando intendevo non farsi influenzare dei sentimenti intendevo nel momento in cui vai a criticare il gioco dato alla software house di turno amico sviluppatore riuscire a criticare in modo personale perfetto sì ok Roberto sì cosa difficile quando si è socializzati effettivamente grazie della chiarificazione Mario scrive infatti sarebbe bello che in tutta onestà chi si scrive chi scrive esprimesse tutto ciò che lo influenza sulla sua interiorità per esempio un gioco come Daymer per me un team italiano che fa un risentivo moderno mi fa essere molto indulgente su un sacco di altri aspetti sì è vero è vero Mario purtroppo dobbiamo riconoscerla questa influenza è già un grande passo nel momento in cui si riconosce se si vuole esprimersi a livello critico ma non parliamo soltanto di chi esercita la propria critica in maniera istituzionale in siti specializzati sui blog anche quando si parla sui social anche quando tu Mario che hai questo bellissimo gruppo di videogiocatori figheri che sei stato il fondatore parli magari di videogioco e senti questa influenza deve passare attraverso un processo che te la porta a scremare da quello che è il tuo esercizio critico personale e dire voglio parlare onestamente di questo Daymer io non lo conosco se mi fa schifo dico che fa schifo e dico perché dico perché non funziona metto anche degli aneddoti personali che ne so se l'hai conosciuto in una fiera questi ragazzi cosa ti hanno detto rispetto a quello che poi hai trovato nel gioco l'esperienza personale di questo sta parlando Thompson Roberto scrive ma è comoda quella schiena sì è abbastanza comoda devo dire ormai ci sono abituato non mi lamento poi a schiena donata a sedia donata non si guarda in bocca quindi magari lo dico apertamente e ne parlo dice Mario continua sì Mario esatto esatto sì Logan scrive io mostro i giochi della bimba se non metto il green screen ecco e vedi Logan tu se non metti il green screen mostri i giochi della bimba che è esattamente quello che dice Thompson il momento del giocatore in quel determinato contesto fra qualche anno non ci saranno più quei tipi di giochi la bimba crescerà però in quel momento tu stai esprimendo te stesso e questo rapporto col videogioco in questo rapporto con il videogioco secondo me deve rientrare anche il fatto che tu hai una figlia anche il fatto che magari ti influenza degli aspetti e quindi ne vai a parlare che ne sai se l'esperienza che hai con una bimba che io per esempio non ho ti porta a guardare in modi diversi certi tipi di videogiochi certi apprezzamenti includere magari il rapporto che ha tua figlia con certi videogiochi in particolare magari certi personaggi e quant'altro questo fa parte del considerare il giocatore nell'intersezione con il videogioco e con la critica che lo va a caratterizzare torno un attimo in modalità lettura dice Mario comunque by the way ti manderò un podcast di intervista a Giannone di Invader Studios di 1998 una storia che ti interesserà sicuramente grazie mille Mario leggo e ascolto molto volentieri anche quando tu sei presente nei podcast tra l'altro piccola digressione dunque spiegati questi tre tipi di declinazioni tag essere indipendenti personali esperimentali cosa scrive il nostro tevis Thompson scrive non essere così negativo questo è interessante ragazzi fondamentale negli ultimi anni ho affrontato molte sfide di critica videoludica del tipo che valorizzano l'indipendenza la sperimentazione e il personale voglio discutere alcune di quelle più comuni a volte mi viene detto che internet possiede già abbastanza negatività quindi perché contribuire di più la vita è troppo breve e via cantando confesso di non capirlo cosa dice Thompson dice c'è una sorta di irriducibile positività tra alcune persone una forma tirannica di entusiasmo è presente in molti fandom e ovunque nella cultura online dei consigli recommendation no e dei mi piace nell'infinito marketing delle nostre vite e naturalmente è possibile trovare questa prepotente positività anche nella comunità indie dove nessuno vuole essere un guastafeste pessimista un negativo ma a chi giova davvero questa positività non vedo come sia possibile rimanere costantemente positivi senza essere disonesti senza incoraggiare la disonestà negli altri le mie valutazioni positive e negative sono entrambe il risultato del mio impegno con un videogioco questo è ciò che richiede un videogioco o qualsiasi altra creazione l'impegno il coinvolgimento personale il nostro tempo concentrazione attenzione ignorarsi è molto peggio di qualsiasi onesta recensione negativa la vita è troppo breve per la negatività no la vita è troppo breve per la disonestà è troppo breve per mancare di rispetto alle nostre esperienze ed è qualcosa di fondamentalmente irrispettoso la rigida inflessibile positività sono cose abbastanza inquietanti se ci si pensa però quanto siamo positivi nei confronti dei videogiochi quanto non vogliamo parlare male della nostra passione a volte ci sentiamo proprio di proteggerla ma quanto questo è disonesto rispetto a quello che sentiamo davvero le cose che non vogliamo dire criticare un Hideo Kojima per qualcosa criticare un gioco indipendente criticare positivamente un Fortnite che è un grande esempio diciamo di videogioco che ha tenuto tanto successo però abbiamo paura di criticarlo positivamente tante cose che riguarda praticamente il fatto di dire oh i like i mi piace raccomandazioni siamo in un circolo e questa lui dice non vedo come possa rimani si possa rimanere costantemente positivi questa positività senza essere disonesti non siamo onesti nei confronti di noi stessi di quello che davvero pensiamo di qualcosa di un nostro giudizio quando siamo ci siamo davvero coinvolti con l'oggetto analizzato lui dice le mie valutazioni positive e negative sono entrambe il risultato del mio impegno con un videogioco non si temere temere il dissenso perché si dice qualcosa di negativo o scusarsi per aver detto qualcosa di positivo dove tutti sono vedono negativamente e esprime comunque il risultato dell'impegno con un videogioco deve essere valorizzato quindi cancellare questo timore in modo da esprimere davvero il coinvolgimento che si è avuto con un'opera e lui dice questo è tremendo la vita è troppo breve per la negatività bisogna essere positivi no la vita è troppo breve per la disonestà lui si chiede cosa cambierebbe nel mondo culturale del videogioco se tutti fossimo davvero onesti con i nostri giudizi critici soggettivi anche a livello di essere pericolosi anche con chi ci circonda nel rapporto interpersonale presumo che lui intende anche questo insomma essere onesti verso chi ci circonda e dire guarda questo non mi piace di quello che hai fatto non funziona questo è bellissimo essere onesti lui dice Tomson ho letto una volta lo trovate anche su Ludens 1 sulla rivista l'ho riportato dice solo perché critichi la tua passione non è detto che tu abbia smesso di amarla criticare vuol dire proprio per lui amare qualcosa quindi tenerci e se ci si tiene tu lo critichi qualcosa nel bene e nel male se tu hai un coinvolgimento personale forte con qualcosa e tieni a questo coinvolgimento e ti ha detto qualcosa è giusto che tu lo tratti in maniera onesta quindi dicendo ciò che non ti è piaciuto che è sbagliato che è negativo esaltando anche ciò che è positivo questo per lui è fondamentale lo dice all'interno ripeto di un raduno indie di persone indipendenti che stanno tutti lì a darsi le pacche sulle spalle a essere positivi ottimisti sullo sviluppo indipendente e quant'altro cosa dice allora sta parlando Romero Mario se scusa te lo chiedo ma per caso facevi radio game si Mario grande si sono io puoi trovarlo ancora su Spotify e altro si Mario è curatore della rubrica radio game bellissima radio bellissima musica sui videogiochi Mario questo punto riguardo una negatività interessante anche se al tempo stesso c'è una cosa che non mi piace di Thompson cioè c'è bisogno anche di esempi positivi insomma quale sarebbe il suo anti-bioshock infrit magari lo ignoro io arriva arriva anche il suo anti-bioshock lo dice dopo il suo esempio positivo Mario Robi Maro complimenti bravo uno dei migliori podcast sui luci italiani di sempre ti ascoltavo ancora con il mio ipod e mi hai fatto un sacco di compagnia grazie fantastico ragazzi bello bello mi state rimpallando le produzioni indipendenti non retribuite non specializzate qui sull'udens mi fa piacere continuiamo qui con un'altra delle cose che lui sente dirsi come critico si costruttivo ha titolato un paragrafo dice una versione più specifica di questa dinamica avviene quando le persone dicono beh se devi essere negativo su un gioco almeno si costruttivo nelle tue critiche questa disposizione presume tuttavia che ci stiamo rivolgendo ai creatori di videogiochi con le nostre critiche come se il nostro compito fosse aiutarli a creare videogiochi migliori e lui dice ha sempre detto l'ho riportato anche all'interno di l'udens 1 anzi voglio leggerlo quello che dice riguardo ai critici di videogiochi e il rapporto con i sviluppatori dice la mia questione è perché nella tua considerazione critica verso un videogioco dovrebbe importarti quanto è stato difficile crearlo dice anche non è che perché io non sono non sono all'interno dell'industria dei videogiochi nel senso di non produco videogiochi non li realizzo non li sviluppo non possa criticare i videogiochi sono meno qualificato ecco lui dice quando mi dicono si costruttivo se vuoi essere negativo è come se mi stessi rivolgendo ai agli sviluppatori di videogiochi a dire guarda il gioco è negativo non funziona però ti dico cosa potrebbe andare meglio in modo che tu in futuro dai il nostro medium sarà migliore ce la puoi fare sono con te lui dice invece me ne sbatto tu hai presentato il videogioco in questo modo e io faccio la critica rispetto a quello che è no a come potrebbe essere perché è frutto di un processo decisionale che tu hai scelto a monte lo hai presentato così poi sarebbe tutto un discorso da farci Cyberpunk 2077 è stato presentato così io lo critico per come è stato pensato non per come sarà in vista futura poi in futuro se faranno degli aggiornamenti magari aggiornerò la mia visione critica ma al momento come è stato presentato è frutto di un processo decisionale industriale quello che volevi tu personale collettivo di gruppo di cui a me non me ne frega nulla io devo fare il critico per come la cosa si presenta adesso e non devo incoraggiarti a dire ehi puoi migliorare questo o fare quest'altro non è questo carrozzone non è questo servizio a cui bisogna provvedere questo sta dicendo secondo me Thompson e continua ma i critici non sono playtester o focus group qua specificato cioè gruppi di persone selezionate impegnate in una discussione di un argomento prestabilito allo scopo di determinare le idee e gli orientamenti di un gruppo di persone no lui dice scrive chi lo dice che tutti noi vogliamo comunque costruire la medesima cosa come se fossimo persino d'accordo sul significato di videogiochi migliori perché lui dice questa disposizione ha scritto prima questa disposizione costruttiva cioè nel senso si costruttivo è praticamente legata al fatto che il compito ideale del critico dovrebbe anche essere quello di aiutare i sviluppatori a creare videogiochi migliori ma lui dice ma cosa è migliore per me perché dovrebbe essere migliore anche per uno sviluppatore magari migliore per lo sviluppatore come ha presentato il suo videogioco il suo massimo quello che voleva davvero esprimere io lo critico per quello non esiste un modo soggettivo di consigliare un altro rispetto all'esercizio della propria arte della propria creatività quindi questo atteggiamento lui dice sbagliato questo si costruttivo cioè si negativo ma costruttivo no perché questo dice Thompson e spiega ciò a cui dovrebbe mirare un critico indipendente non è una critica costruttiva e beneducata ma una critica espressiva una critica indisciplinata questo può suonare come un invito al narcisismo sfrenato da parte del critico ma la sua critica sarà giudicata proprio con qualsiasi altra cosa era interessante per spicace intuitiva ben espressa questo è quello che un lettore qualcuno che fruisce di critica di un altro dovrebbe chiedersi è una critica interessante per spicace intuitiva ben espressa molte volte non si fanno entrare questi canoni interpretativi in gioco quando si critica magari i siti di critica specializzata ci si ferma su una superficie descrittiva ma non si va oltre a quel livello e quindi infatti lui lo sente questo problema Thompson e dice la cultura dei videogiochi pone l'accento sull'utilità sui guadagni misurabili ma le critiche non devono essere utili nell'immediato affinché siano utili la critica non deve essere consiglio per l'acquisto adesso e me ne dimentico poi quando un critico raggiunge qualcosa di vero sulla sua esperienza con un videogioco è qualcosa di fine a se stesso è sufficiente tirarlo fuori ed esprimerlo quindi sta parlando proprio dell'indipendenza della critica rispetto quasi all'oggetto analizzato affinché possa rimanere diciamo nel tempo possa essere espresso e non legato all'oggetto per una questione utilitaria io ad esempio ho letto di critiche che sono meravigliose che me ne frega scusate e che non mi danno interesse rispetto al gioco da giocare eppure rimango con l'idea critica culturale in mente che mi ha arricchito da diversi punti di vista a prescindere che io abbia giocato o meno il gioco questo è interessante di Thompson questo lui vuole portare all'attenzione cosa scrive Roby Mario spettacolo un grande piacere trovare un fan su Ludens scrive Mario riguardo al suo podcast io lo scrive con la necessaria nonia il critico modello di Thompson è Farenz fare ah sì ok Farenz io l'ho conosciuto brevemente ma è un personaggio uno youtuber che è legato molto all'autoreferenzialità all'autopromozione fa una critica personale è vero e ci mette molto sentimento in quello che fa in questo caso funziona come critico non a caso riesce ad avanzare anche un seguito la domanda è l'esercizio della sua critica di Farenz in particolare ma in generale degli youtuber fatta a pelle veloce istintiva eccetera promuove l'indipendenza critica degli altri li fa confrontare con se stessi crea un ambito culturale che porta più qualcuno a dire è interessante quel punto di vista l'ho sentito anch'io vorrei svilupparlo anch'io perché se non è di ispirazione ispirazione intendo proprio nel muoversi soggettivamente e indipendentemente nel giudicare i propri rapporti personali con un videogioco nel coinvolgersi non so quanto possa essere ideale un tipo di impostazione simile come quella degli youtubers ripeto quasi parliamo di youtubers come bolle di autoreferenzialità persone anche che vivono con quello che hanno costruito in passato che adesso non riescono a costruire più per varie esigenze enagrafiche biografiche eccetera e che vivono di rendita capitalizzano su un discorso critico molto basso sul videogioco di chatting di charlie di chiacchiere non troverai mai davis thompson fare una cosa simile lui si è addirittura cancellato dai social ripeto quindi è molto lucido nell'esercizio del suo essere indipendente mettiamola così paragrafo un altro paragrafo scrive thompson e fai attenzione al tono che usi dice coloro che accettano la negatività e non pretendono che le critiche siano sempre costruttive a volte tuttavia hanno una piccola pretesa fai attenzione al tono che usi questo controllo del tono altrui proviene spesso da persone che potrebbero essere d'accordo con le critiche ma sono sinceramente preoccupate su come raggiungere le persone che sono in disaccordo scusate tolgo quell'altrui questo controllo del tono da parte di un critico che si esprime proviene appunto da qualcuno che potrebbe essere d'accordo con le critiche che riceve ma sono sinceramente preoccupate su come raggiungere le persone che sono in disaccordo cioè vogliono essere d'accordo con tutti non essere troppo arrabbiato non essere troppo aggressivo o duro sì ragionevole razionale rispettoso thompson scrive in altre parti sembra che ho letto ho detto anche nominato in un altro episodio di emergenza critica se un critico ha paura del dissenso non è un critico se un critico ha paura del disaccordo allora non è un critico questo è quello che ha detto e questo ha a che fare con questo intendimento come continua thompson dice ma proprio come l'esigenza di critiche costruttive presuppone un pubblico di sviluppatori di videogiochi l'esigere il tono giusto presuppone un pubblico che potrebbe offendersi di una maggioranza percepita che deve essere maneggiata con guanti di protezione e lì è qui ironico e dice cambiare i cuori elementi è una faccenda complicata e a quelli più diplomatici di me auguro loro il meglio cioè se ci sono fra voi ottimisti diplomati eccetera e pensate di cambiare i cuori elementi eccetera di chi vi leggi chi vi segue a tanti auguri non fa per me però lui dice ma mi chiedo quanto possa essere indipendente un critico se è costantemente preoccupato per la delicata sensibilità dei suoi lettori mi chiedo come faccio a rimanere onesto e fedele alle sue esperienze con i videogiochi specialmente a quelli che non gli piacciono come si comporta con un videogioco che lo fa arrabbiare o lo disgusta la gentilezza la correttezza l'apparente ragionevolezza possono essere strumenti di oppressione molto efficaci specialmente se richiesti da chi detiene il potere cioè quindi essere gentili corretti la ragionevolezza eccetera sono strumenti di controllo di oppressione vengono utilizzati affinché non si pensi con la propria testa non venga promosso il pensiero indipendente ma semplicemente ci si attesta sullo status quo perché c'è un clima di ragionevolezza un clima di correttezza in cui ci si sente bene e quindi ci si sente confortati di stare all'interno questo sta dicendo dice come si fa a rimanere esperienze fedele scusate le proprie esperienze con i videogiochi quando invece qualche videogioco ci fa cagare ci fa arrabbiare ci disgusta come si può essere indipendenti in questo senso lui dice la critica indipendente non consiste nel parlare con toni dolci a una maggioranza privilegiata mantenendola al sicuro nelle sue posizioni se vogliamo cambiare i termini del nostro discorso non possiamo continuare a rimandare scusate non possiamo continuamente rimandare ai termini già in vigore se ad esempio volessi dire che trovo the stanley parable un videogioco che è stato molto incensato la critica indipendente come geniale no se ad esempio volessi dire che trovo stanley parable nient'altro che uno scherzo compiaciuto di se stesso sono un'altra forma di intelligenti vedute ristrette che celebra la prigione della cultura dei videogiochi tanto quanto la deride non dovrei semplicemente dirlo invece di preoccuparmi di quante delle molte persone incluse alcune di voi abbiano potuto apprezzare questo videogioco ripeto tu stai parlando a delle persone in un raduno di gente che magari ama the stanley parable quando è uscito parla dei videogiocatori delle contraddizioni dell'essere un videogioco della cultura del videogioco e quant'altro lui dice se mi fa cagare non dovrei semplicemente dirlo a prescindere da dove mi trovo ora un attimo che leggo i commenti ovviamente era un'esagerazione dice Ayo Rose rispetto sia il critico modello di Thompson che fosse Farenz la cosa che manca è effettivamente la capacità nel coinvolgere il suo pubblico nello sviluppo di una coscienza critica indipendente è sempre una sorta di proselitismo più che un dialogo sì effettivamente Ayo vabbè ma io comprendo Marco Farenz ma così come altri youtuber è chiaro che quando poi si diventa così popolari nel senso che ci sono tanti seguiti gente che foraggia che capitalizza fa donazioni e quant'altro si diventa anche spersonalizzati quindi anche fare delle live estemporanee non charlare non dire di nulla fondamentalmente usare poi la provocazione la bestemmia l'ingiuria essere molto triviali diventa qualcosa che squalifica tantissimo il videogioco e che di sicuro non può sviluppare una coscienza culturale critica molto profonda ecco non è un modello che in questo caso Thompson seguirebbe capisco che l'hai usato tu come diciamo ironia una necessaria ironia ed è sì è un proselitismo perché quello che fanno molte volte i videogiocatori è sentirsi protetti all'interno di un nulla culturale perché insomma sono lì sono tutti quanti creano si socializzano creano una una bellezza lo stare assieme parlare di videogiochi ma nessuno va a toccare lo status quo nessuno si sente toccato ripeto anche perché in maniera spersonalizzata non puoi con che ne so mille che ti stanno seguendo andare ad approfondire certi temi e ottenere di conto tutti quanti quindi una sorta di carrozzone ecco che che capitalizza su chi poi ai videogiochi fa le donazioni parlando poi insomma di cultura videoludica in quel senso presumo che anche molti youtubers che stanno capitalizzando sulla propria immagine su quello che hanno guadagnato poi col tempo si siano stati sorpresi quando poi sono entrati in queste piattaforme live e visto gente che donava così sull'unghia ogni volta che erano live quindi il videogioco mi è messo un po' da parte in questo senso il discorso culturale profondo però comunque proseguiamo proseguiamo con davis thompson e abbiamo quasi finito il giocatore indie lui in questo interessante ha un paragrafo dedicato al giocatore indie e scrive non siamo qui perché ci piacciono gli stessi giochi il nostro incontro non può basarsi su questo questo è solo una cricca un clan e avere opinioni simili non costituirebbe comunque una comunità sana è doloroso sedersi fra menti apparentemente simili e sentirsi fuori luogo lo so dove tutti celebrano un gioco che secondo la tua esperienza personale puzza inizia a dubitare di te stesso come videogiocatore e ti chiedi perché la tua esperienza sia stata così diversa da quella di tutti gli altri lui parla proprio di questo coraggio che ci vuole per essere indipendenti qui thompson cioè mettersi in una condizione in cui se sentiamo una differenza rispetto a un consenso generale bisogna notificarla e poi in qualche modo esprimerla non bisogna avere timore di questo se si è indie indipendenti lui però parla di giocatore indipendente attenzione lui dice quel consenso è un'illusione lo è sempre stato la verità è che c'è una diversità silenziosa di giocatori là fuori qui dentro ovunque e il videogiocatore in modo indipendente deve cercare questa diversità e abbracciarla con le critiche e tutto il resto alcuni di voi potrebbero non sentirsi molto critici non tutti sono tagliati per questo né è necessario che lo siano il critico indipendente tuttavia è in realtà solo un sotto insieme particolare di un gruppo molto più ampio il giocatore indipendente il giocatore indipendente indie player non deve essere confuso con il videogiocatore indie indie gamer qualcuno cioè che videogioca e preferisce videogiochi indie il giocatore indipendente è qualcuno che gioca un gioco a qualsiasi gioco con uno spirito indipendente cioè indipendentemente sperimentalmente personalmente quindi quando lui parla di indie player parla di un di un giocatore in generale può essere anche giocare a un dungeon and dragons cartaceo può essere giocare a che ne so a cricket o fare ciclismo qualsiasi cosa che sia magari anche che abbia rientra all'interno dell'udus lui dice essere giocatore indipendente rientra in questo tipo di rapporto sperimentale personale ovviamente ci sono anche i videogiochi ma non sta parlando dei videogiocatori indipendenti ma del videogiocare in modo indipendente a qualsiasi gioco e scrive il giocatore indipendente è creativo imprevedibile insubordinato come lucifero il giocatore indipendente è una creatura ribelle non obbedirà in silenzio al designer al progettista intelligente del mondo di gioco lui proclama non serviamo non servirò il giocatore indipendente non si piega nemmeno ai valori della cultura del videogiocare nemmeno a quelli del videogiocare indipendente gioca in modo distintivo irragionevole singolarmente i giocatori indipendenti possono essere critici o meno ma ognuno gioca a modo suo essere indipendenti vuol dire anche giocare videogiocare a modo proprio questo per lui è fondamentale e non c'è bisogno di essere critici non c'è bisogno di essere indipendenti liberi e dover esprimere il rapporto critico lui si concentra proprio sul rapporto che si può avere col gioco in generale o col videogioco in particolare sentirsi liberi ora cosa cosa specifica dice questa nozione di giocatore indipendente ruota intorno a un'idea di base ma vitale che la vostra esperienza sia importante quello ho messo in corsivo thompson la vostra esperienza individuale quale giocatore è importante siamo tutti giocatori e le nostre esperienze di gioco personali peculiari e irripetibili sono essenziali per i videogiochi per le comunità indie per noi portare quindi primo piano l'esperienza individuale quale videogiocatore e lui dice ovviamente guarda vede le contraddizioni di questo aspetto dice so che indie cioè indipendente comunità possono sembrare a volte in contrasto proprio come critica e comunità l'esercizio critico deve essere personale non posso pensare alla comunità l'indipendente è indipendente non può parlare di comunità sembrano minacciarsi a vicenda scrive come connettere persone indipendenti come mantenere una comunità di individui distinti a volte ostinati nella loro visione non conosco le risposte a queste domande ma penso che le comunità e i raduni indie come IndieCade dove lui sta parlando dovrebbero sforzarsi di essere luoghi in cui le persone si sentano libere di esprimere le proprie esperienze individuali di gioco di condividere apertamente le proprie differenze le critiche e tutto il resto luoghi per celebrare il giocatore indipendente quindi non il videogiocatore indie che ama i giochi indie ma dove celebrare il giocatore indipendente libero non a caso IndieCade ha anche dei panel dove si può giocare cose fuori dal videogioco utilizzare le tecnologie mischiate al gioco analogico quindi lui parla proprio di un videogiocare indipendente che contraddistingue il giocatore indipendente che fa bene alla critica al discorso sul videogioco all'essere liberi di mettere se stessi al centro della della discussione culturale Mario scusa non avevo letto prima Mario dice tra l'altro sono abbastanza d'accordo con questa visione di Stanley Parable io non so dirti Mario perché non l'ho giocato Stanley Parable quindi però se lo ravvedi mi fa piacere che lo hai scritto sì importante in quanto significativa ok come conclude Thompson scrive un paragrafo chiamato il mare ghiacciato e fa un riferimento letterario ricordo che lui è uno scrittore anche a volte mi viene chiesto scrive in qualità di critico cosa cerco davvero nei videogiochi quali esperienze mi spingono come giocatore viste tutte le mie critiche permettetemi quindi di terminare con questo il mio gioco preferito dell'anno scorso è stato Problematic di Liz Ryerson veramente un piccolo videogioco indie tra l'altro è scaricabile gratuitamente lei lo ha descritto questa sviluppatrice come un gioco sulle prigioni sia reali che immaginarie e questa è stata esattamente la mia esperienza Problematic rivolge quell'amata prigione indie il puzzle platform contro se stesso e conduce i giocatori ai margini lui considera il puzzle platform una prigione Thompson e scrive di Problematic è un gioco difficile ma non come lo sono la maggior parte dei giochi è difficile nel modo in cui è difficile una persona e questa difficoltà è bellissima Problematic è frustrante è indulgente ipnotico ma abrasivo vulnerabile ma mai timido è completamente completamente sincero si dispiega secondo le proprie regole e si snoda in profondità all'interno del giocatore non cazzeggia in giro ora poteste pensare che questo Problematic sia qualcosa di davvero speciale particolare a vederlo non gli dareste un cent a guardarlo però la cosa interessante che dice Thompson che è difficile nel modo in cui è difficile una persona cioè entrare all'interno di quello che ti può dire per lui stiamo parlando di lui un gioco simile vuol dire affrontare qualcosa di profondo come affrontare un'altra persona e una persona non può essere analizzata con i canoni della critica specializzata grafica longevità skill tree capacità di sorprendere di muoversi a 60 frames al secondo eccetera eccetera quindi quello dice ho trovato ciò questo aspetto la personalità la persona la difficoltà che ti vuole trasmettere Problematic è proprio il suo linguaggio nel rapportarsi al videogioco come se stessi rapportando a un essere umano quindi parliamo di un videogioccare molto umano molto sentito da quel punto di vista non ho giocato Problematic quindi non so dire probabilmente potrebbe anche farmi schifo non lo so o non dirmi nulla però lui dice questo è stato il primo preferito dell'anno scorso ora dice giocare Problematic scrive Thompson mi ricorda quella famosa citazione di Kafka lo scrittore abbiamo bisogno di libri che ci colpiscono come una disgrazia che ci facciano molto male come la morte di qualcuno che amavamo più di noi come essere banditi via dai boschi via lontano da tutti gli uomini come un suicidio un libro deve essere l'ascia per il mare ghiacciato dentro di noi e scrive voglio la stessa cosa dai videogiochi un'ascia come Problematic per il mare ghiacciato all'interno e voglio la stessa cosa dalle critiche che le chiamiamo indipendenti o meno tevis Thompson primo maggio 2014 questo è quello che ha scritto il nostro tevis Thompson leggo un attimo di critiche no non c'è stata nessuna nessun tipo scusate posso leggere direttamente sullo schermo su tipo di chat ancora quello che è interessante di Thompson è che fornisce l'esperienza di un qualcuno che è uno scrittore qualcuno che si occupa di critica di videogiochi da un punto di vista molto umano perché necessariamente ha sviluppato un rapporto diretto fecondo con la scrittura con l'esprimersi in generale questo secondo me manca moltissimo sul se vogliamo su su quello che è il il parlare di videogiochi l'esprimersi sui videogiochi manca tantissimo perché manca una cultura della scrittura che sia importante conosco diversi scrittori che si occupano di videogiochi che scrivono molto bene però è il rapporto che hanno con la scrittura e con loro stessi che li fa esprimere in certi modi magari sui videogiochi che non non danno molto rispetto ad una critica che coinvolge il personale il davvero indipendente il davvero sperimentale ed è questo che secondo me tevis thompson mette davanti e vuole che sia uno status ideale che è possibile magari raggiungere per migliorare la cultura critica del videogioco voglio soltanto dire che è possibile trovare anche un sulla rivista ludens reperibile su www.ludens.it la nostra rivista che noi produciamo all'interno del progetto di convergenza crossmediale ludens dietro donazione quindi dietro donazione è possibile ricevere questa rivista a casa dove c'è un articolo in cui io tratto di davis thompson parlo di un suo di un di questo coraggio che ci vuole dell'essere indipendenti per una critica che non ha paura si parla di apologia del videogioco si parla di comunità socializzate si parla di quanto sia fondamentale rendersi conto quantomeno del poter uscire fuori da certi tipi di concezioni del fare critica e dell'impegno che ci vuole nell'esprimere culturalmente quello che si pensa davvero del coinvolgimento che abbiamo con un'opera io credo di aver espresso in parafrasato in una maniera che quantomeno per me è soddisfacente ma che sia stata in qualche modo di interesse anche per voi prima di terminare questo appuntamento di emergenza critica volevo ringraziare ringraziare Mario per esserci stato all'inizio e per anche la tua iscrizione al canale di Ludens come supporto quindi fattivo con l'abbonamento e volevo ringraziare Logan volevo ringraziare Ayo Rose volevo ringraziare Robi Maru volevo ringraziare Videogiochi e Sofa per Lost grazie mille per davvero per la tua ospitata sul tuo canale ringraziare Bawaus che c'è stato fin dall'inizio non so se perdo qualcuno sto scorrendo la chat su tutti i presenti credo di non aver dimenticato qualcuno mi scuso se c'è qualcuno che non risponde all'appello e volevo invitarvi a sostenere il progetto Ludens a andare sui nostri link che sono presenti sulle informazioni in questo caso del canale Twitch ma poi saranno anche su Youtube quando esporteremo il video e considerare il il supporto del canale affinché sia un progetto diciamo indipendente che possa intercettare e culturalmente anche se vogliamo disturbare le proposte che secondo me sono degradanti veramente a punto di vista anche esistenziale riguardo al videogioco e grazie mille grazie mille Bauhaus per la stascrizione di nuovo Lorenzo sei sempre molto gentile volevo ringraziarti pubblicamente grazie mille per festeggiamo il mesiversario ok per quattro mesi ma è davvero un piacere sapere che c'è questo supporto ringrazio anche Mirko che se non so se ci ha sentito ma è uno dei più grandi sostenitori su Patreon discorsi che facciamo privatamente riguardo a a sostenere progetti come quello di Ludens progetti indipendenti in generale riconoscere la presenza con diciamo anche una piccola donazione piccolo grande che sia è qualcosa che davvero aiuta poi a dare fiducia alle nostre proposte critiche culturali e quant'altro grazie mille a tutti ci vediamo restate sintonizzati su o il canale telegram di Ludens iscrivetevi o su Instagram o sui vari canali social che trovate qui in descrizione affinché ci possa essere una tempestiva comunicazione e sapere magari anche un giorno prima quando va in onda emergenza critica online Roberto mi scrive grazie Luigi domandare giocherai altri giochi sul canale in diretta si vorrei portare qualcosa in particolare le sessioni di videogioco di Ludens che sono concretate poi in un canale a parte di youtube chiamato Ludens at play Ludens in gioco sono sessioni ovviamente che fuggono un po' dalla proposta critica che facciamo qui su delle rubriche mirate e sono io le chiamo molto molto gioco momento di gioco momenti di gioco egoistici no molto ludo egoistici perché magari gioco a cose che non ho giocato in passato recupero nostalgicamente qualcosa mi piacerebbe portare qualcosa in particolare ce l'ho già qui devo fare sistemare un po' il setting però sì voglio portare qualcosa credo che lo comincerò comincerò a fare qualcosa nella settimana prossima sarà annunciato ovviamente a tempo debito grazie mille Roberto anche dell'interesse ovviamente grazie a tutti ci vediamo la prossima con emergenza critica o qualsiasi altra proposta al canale di Ludens vi auguro un buon proseguo di giornata e grazie mille per esserci stati a prestissimo e ciao con la sigla di Ludens ciao 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 ciao